Nel suo recente libro, Vi avverto che vivo per l'ultima volta, racconta che il vero cognome della poetessa Anna Akhmatova era Gorenko. Quando il padre le disse di non mescolare il nome della famiglia con la poesia e la letteratura, definite faccende disonorevoli, Anna decide di farsi chiamare Akhmatova e continua a scrivere. In che modo l'ha ispirata la figura di Anna Akhmatova e perché ha deciso di raccontare in un libro la sua vita? Io dico, si dice Akhmatova, con l'accento, li sbagliano tutti i cognomi, non preoccupate, è una cosa normalissima. Io quando studiavo volevo fare la tesi sull'autore del maestro Margherita e alla mia docente di russo mi ha chiesto al secondo anno, ma te hai già un'idea della tesi? Io ho detto, sì, vorrei fare una tesi su Bulgakov. E lei mi ha detto, su chi? E io ho detto, su Bulgakov, ah non lo conosco, ma è quello che ha scritto il maestro Margherita. E lei mi ha detto, si dice Bulgakov. E quindi, è una cosa che sbagliano tutti io. Sembra che sono noioso, però proprio i cognomi si chiamano Akhmatova. Io ho fatto prima un romanzo su Dostoevsky, che è una figura centrale del 800 russo. Volevo fare un romanzo su una figura centrale del 900 e prima pensavo a Bulgakov, che mi piace molto, però poi pian piano è venuta fuori la figura di Anna Akhmatova, che è una donna, tanto una donna straordinaria, come si vede anche da questo esempio. C'è un suo grande ammiratore, che è diventato anche un suo amico, poi è diventato premio Nobel per la letteratura, che si chiama Josip Brodsky, che diceva che la scelta del suo pseudonimo, Akhmatova, è stato il suo primo verso di successo. E che il fatto di aver messo in fila queste 5 A, Anna Akhmatova, era una ragazzina quando ha scelto questo nome, avrà avuto 15 anni. C'è tanto del suo orecchio, ecco. E la messa in testa alla poesia russa del 900, non solo per quanto riguarda l'ordine alfabetico. Io ho raccontato la vita di Anna Akhmatova perché è una vita che mi commuove. Lei è una che ha vissuto e ha voluto rimanere in Unione Sovietica, in Russia, che poi è diventata Unione Sovietica, anche in quel secolo terribile che è stato il 900. Le hanno ucciso suo marito, l'hanno fucilato. Le hanno ucciso il terzo marito che ha finito i suoi giorni in un gulag. Il suo più grande amico, Osip Mandestam, è morto in un gulag. Suo figlio si è fatto 15 anni tra gulag e carcere. E lei è sopravvissuta a tutto questo. La sua prima raccolta di poesie, che è uscita nel 1912, è uscita con una attuatura di 300 coppie. Poi è stata sempre osteggiata dal potere sovietico, l'hanno esclusa l'Unione degli scrittori. La sua ultima raccolta di poesie con lei in vita è uscita con una attuatura di 1.700.000 coppie. È una davvero che è l'esempio vivente di una cosa che secondo me è evidente, per quanto per me, ecco, che mi sembra evidente, per quanto non tutti la pensino così, cioè che la letteratura è più forte di qualsiasi censura e di qualsiasi dittatura. E io quando ho cominciato a scrivere questo libro non c'era ancora la guerra tra Russia e Ucraina e durante, mentre lo stavo scrivendo, questo libro è diventato per me ancora più contemporaneo, cioè mi parla ancora di più adesso, ecco, in questi mesi di questa guerra terribile. Grazie a tutti.